Una cosa che sento spesso usare in modo improprio durante le mie lezioni è il verbo piacere. Se voi avete la seguente frase, ad esempio, in italiano la traduzione non è io piace pizza, ma dovete sempre dire a me piace la pizza oppure mi piace la pizza. Quindi questo significa che con il verbo piacere non usiamo i pronomi personali soggetto, ma usiamo sempre i pronomi indiretti. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, leggi la caption.